Sarà davvero possibile imparare la ceramica e trasformare questo pezzo di argilla in questo, questo o questo su un tornio da soli 130 euro? Scopriamolo insieme! Sono Enrico Trammacere, ceramista e insegnante di ceramica. Vi do il benvenuto sul mio canale YouTube dove voglio condividere con voi quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò. In questo nuovo video voglio mostrarvi che è veramente possibile creare degli oggetti di ceramica che possiamo usare tutti i giorni trasformando questa palla di argilla in una di queste forme utilizzando questi nuovi torni cinesi che costano veramente poco e che ho recensito nello scorso video e quindi poter muovere i primi passi nella lavorazione della ceramica al tornio senza doverci salassare per uno di questi torni professionali che possono costare tantissimo. Mettiamoci al tornio e vediamo un poco cosa ne esce. Mettiamoci al tornio e vediamo un po' di questo video. Mettiamoci al tornio e vediamo un po' di questo video. Mettiamoci al canale. Come avete visto non c'è stato nessun tipo di problema a creare un oggetto su questo tipo di torni. È incredibile sapere che con una spesa così bassa possiamo acquistare uno di questi torni e creare degli oggetti che possiamo veramente utilizzare ogni giorno. Nella descrizione di questo video vi lascio tutti i link su dove poter acquistare questo tipo di torni ed altri simili. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, seguite il canale e visitate la mia pagina web www.terraie.com dove potrete trovare tutte le mie collezioni. Vi ringrazio di essere arrivati fin qui e ci vediamo al prossimo video.